Ed eccoci qui! Buongiorno a tutte e a tutti, o bentornati, per chi ancora non mi conoscesse, se dovessi essere la prima volta che venite su un mio video, vi do il benvenuto, io sono Paolo lo fai ASMR e quello che faccio su questo canale, quello che troverai su questo canale è un miscuglio fra storia, arte, cultura, ma tutto quanto in ASMR oggi, per esempio, facciamo due chiacchiere sull'ultimo dell'anno. Allora, dunque, 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 intanto come avete passato l'ultimo dell'anno? Io ho abbastanza bene direi quest'anno, a parte un po' di mal di gola che mi sono portato a casa, non so se è perché ho preso freddo, è stato un po' un ultimo dell'anno tirato, come si suol dire, oppure semplicemente ho urlato un pochino troppo, ma tanto gli ASMR si registrano a bassa voce, no? Quindi non ho nessun tipo di problema. Bene, e quindi, dicevo, com'è andato il vostro ultimo dell'anno e com'è sta andando questo inizio del nuovo anno 2023. Anche l'inizio del mio nuovo anno sta andando piuttosto bene. Per farlo andare ancora meglio, io vi ricordo che potete iscrivervi a questo canale mappando alle ciance e andiamo a trattare questo tema un po' scottante, un po' contraddittorio dell'ultimo dell'anno, perché non so quanti di voi, tu che stai guardando questo video, lo vivono bene l'ultimo dell'anno? Perché diciamocelo, fare festa a capodanno è qualcosa che la società che ci sta intorno si aspetta che ognuno di noi faccia. Eppure mi è capitato, scrollando un po' Instagram, oppure diverse piattaforme come TikTok, anche qui su YouTube, di incrociare contenuti che cercassero di spiegare a capodanno in tutte le sue varie sfaccettature, tra cui anche chi passa le peste di Natale e quindi anche il capodanno in solitaria. O chi lo preferisce passarlo in tranquillità senza fare grandi cose, senza doversi per forza divertire o distruggere. Quindi voi come lo vivete il capodanno bene o male? Io personalmente l'ho sempre cercato di vivere bene come un momento, un'occasione di festa, un'occasione per andare da qualche parte, diverso, da qualche parte e possibilmente diversa dai luoghi che sono solito frequentare, quindi la mia città, i paesi limitrofi e cercare di evadere dalla mia realtà, approfittare dell'ultimo giorno dell'anno per evadere. Però nella mia compagnia di amici, con i quali condivido gran parte di questi momenti di svago, è più di una, c'è più di una persona che non ha sempre avuto un approccio cordiale con il capodanno, anzi, ci sono persone che lo trovano irritante o quantomeno triste trovarsi e celebrare un momento di apparente conclusione e celebrazione di un nuovo inizio, perché semplicemente le persone si rendono conto, forse crescendo, che tra il 31 e l'1 non c'è alcuna differenza. E io le posso anche capire, lo posso anche capire, però il mio approccio è sempre stato, o meglio, ho sempre tentato di avere un approccio ritualistico, direi. Cioè, è come se io sentissi la fine di un certo periodo e l'inizio di un nuovo periodo, ha più a che fare su come percepisci il capodanno e come te lo racconti, come ti convinci di quello che stai vivendo. E in ogni caso, come ho detto prima, è un'occasione di cui poter approfittare per dare libero sfogo a comportamenti, sempre nel rispetto delle altre persone, ovviamente, e di ciò che ci circonda. Libero sfogo comportamenti che normalmente durante l'anno potresti evitare. Per esempio, io a capodanno sono solito, non è né un cattivo né un buon esempio, se è visto in questa maniera, però sono solito, per qualche bicchiere di più, a godere con i miei amici di un'atmosfera di allargamento delle maglie, dei divieti, delle regole, dei doveri, no? Voglio vivere il capodanno senza doveri, ok? A meno che non siano doveri con cui posso convivere. E quindi questo capodanno io ed i miei amici siamo stati a Torino. Era la prima volta che visitavo, tra virgolette, Torino. E adesso vi racconto un po' la mia esperienza. Torino è una città che ho fortemente voluto vedere negli anni passati. Un po' perché amicizie che facevano l'università là, me ne hanno parlato sempre bene. Un po' perché ne ho sentito parlare bene. Ho letto cose belle di Torino. E' un po' anche perché è una città a cui sono legato per la mia squadra, che non è il Torino, ma è la Juve. Non so se si può dire. Probabilmente verrà linciato, però non sono un gran tifoso d'Aisu. Quindi, Torino. Non ho sempre sentito parlare bene, come dicevo. Ed effettivamente mi ha sorpreso, piacevolmente, positivamente. Torino viene riconosciuta anche un po' come la Barcellona europea per l'ordine architettonico e urbanistico della città, cioè Alessandro Bericco, che ha fondato la sua scuola di narrazione. Alla scuola all'ordine a Torino dice che a Torino è impossibile perdersi, è un po' come una grande scacchiera. Ed effettivamente non l'ho girata troppo, perché sono stato il pomeriggio del 31 fino al pomeriggio dell'1, un giorno circa. Però quel poco che l'ho girata, devo dire, è una città facilissima da girare. Non ho mai perso l'orientamento. Ed è anche una città piuttosto elegante. Per quello che ho visto. Ho visto Piazza San Carlo, che è molto prestigiosa. La piazza è capitolata da due chiese, che vengono chiamate le due chiese gemelle. Ed è molto prestigiosa, dicevo, perché è contornata da negozi di alta moda. E soprattutto su uno degli angoli della piazza c'è la caffetteria e pasticceria San Carlo. E ho scoperto poco prima di arrivare a Torino che questa pasticceria fosse una pasticceria rinomata e storica di Torino. E quindi ho voluto andarci con Emma, con la mia ragazza. Ed effettivamente è bellissima. Se riesco vi metto anche qualche foto della pasticceria. Abbiamo preso due caffè. La miscelazione dei caffè è particolare e speciale. Non utilizzano caffè normale. La disposizione, i dolci, è sicuramente molto arzico-golata. L'arretamento. C'era la fila in attesa per un posto interno. Quindi noi abbiamo preso il caffè. In piedi. Caffè molto buono, molto buono. Io ed Emma per quest'anno abbiamo deciso di soggiornare a un nuovo hotel in Corso Vittorio Emanuele II. Direi un hotel, niente male. È una cattina di hotel in realtà internazionale. Bella stanza, devo dire. Molto curata. Con una buona illuminazione. E in generale la hall dell'hotel. Molto, molto bella. Ha diverse sale. Però passa anche un po' in secondo piano rispetto a quello per cui eravamo lì. Nell'andare in piazza di Torino ci siamo fermati anche ad una enoteca. Scelta completamente casuale. Nel senso che non avevamo cercato enoteca di Torino, ma l'abbiamo trovata per caso, passeggiando per Torino. Questa enoteca si chiama Parola. Ma c'è un nome per me molto significativo e stupenda, stupenda per quelle persone come me, come Emma, a cui piace non solo il vino, ma anche il vino come concetto, come prodotto, legato inevitabilmente all'arte, alla storia, alla filosofia, ai momenti di condivisione. E per quelle persone, ripeto, come me, a cui piacciono anche gli ambienti in cui si fa il vino o si vende il vino, come gli wine shop oppure le cantine. E quindi sono alla ricerca di una cultura enologica. Sono tutti posti molto, molto belli, questi. Ed effettivamente, anche noi siamo stati dentro circa 5-10 minuti per comprare un neppiolo del posto. Poi da condividere con i nostri amici. E' stato un bellissimo momento. Arrivati in piazza San Carlo e ci siamo trovati con i nostri amici che invece avevano preso un paio di appartamenti a Torino. Ed erano arrivati il giorno precedente, il 30, quindi. E abbiamo visitato prima una delle gallerie di Torino. Torino ha diverse gallerie chiuse, un po' come potreste immaginare la galleria di Milano, ma molto, molto, molto più piccola. E devo dire, in questo, molto simile ai passaggi di Torini, di Torini, scusate, di Parigi. Non so se siete mai stati a Parigi, a Parigi ci sono i passaggi che sono gallerie chiuse con i vetri su più livelli e solitamente delle uguale a pieno terra. E le gallerie che abbiamo visto, le due gallerie di Torino che abbiamo visto, erano molto, molto simili. Fatta questa breve tappa alla galleria, abbiamo deciso di visitare il Museo Egizio. Non avendo molto tempo dovevamo scegliere che cosa visitare. E abbiamo scelto di visitare il Museo Egizio. Enorme. Devo dire, enorme. Anche questo, direi, paragonabile all'Ovro, però all'Ovro molto, molto di più. Chi è mai stato di voi all'Ovro saprà che è praticamente impossibile visitare in un giorno per gustarselo e dire davvero di aver visto all'Ovro. Secondo me bisogna darci più volte e ogni volta dedicare il giusto tempo, con la giusta calma, il giusto temperamento, a diverse sale. Idem è un po' per il Museo Egizio di Torino, che è sicuramente meno grande dell'Ovro, ma è su tre piani. I reperti sono tantissimi ed è un tuffo, vero e proprio. Nella cultura egizia mi ha sorpreso, dopo tanti anni che non tornavo sulle date, sul periodo, sulla durata del regno egizio, mi ha sorpreso constatare quanto sia durata la civiltà egizia, perché io credo che a volte davvero non ci rendiamo conto dei tempi storici. Per noi sono tantissimi, vent'anni, trent'anni, i riusciti sono durati migliaia di anni. Ed effettivamente questo spiega come sono riusciti a costruire una cultura così tensa di manufatti e opere. E come mai certi significati, certi concetti, come il concetto della morte, siano così approfonditi per la cultura egizia? E devo dire, bello, mi è piaciuto il museo egizio, anche se siamo usciti verso le 7-7.30 e abbiamo cominciato la visita alle 17.20 e quando sono usciti avevamo parecchia fame e avevo bisogno di una doccia. Quindi siamo usciti, siamo ripassati da Piazza San Carlo. Bella perché c'erano diversi ragazzi a suonare dal vivo in Piazza San Carlo. E anche una, come dire, proiezione col proiettore su dei muri di Piazza San Carlo, di alcune immagini molto successiva, molto successiva a Piazza San Carlo. La sera del Capodanno a Torino era previsto un concerto in Piazza Castello con un'altra piazza importante di Torino. Noi non ci siamo andati perché era prevista la prenotazione e qualche giorno prima, quando abbiamo guardato per i biglietti, effettivamente le prenotazioni erano già tutte concluse, i posti erano già tutti conclusi. Ma non è stata per noi una grave perdita perché ci piace, quando andiamo in piaccio insieme, noi intendo, io e i miei amici. Cucinare insieme e godirci proprio il tempo delle cene assieme, parlando, giocando. E quindi così abbiamo fatto, ci siamo ritrovati in uno dei due appartamenti, erano mai in tredici. Abbiamo cucinato un risotto alla salsiccia e zafferano ed un risotto invece al corgonzola e noci, devo dire, usciti benissimo. A me è piaciuto di più quello alla salamella, alla salsiccia, come preferite chiamarla. So che per alcuni sono già cose diverse, non voglio essere oppensivo. E piuttosto che quello al corgonzola e noci, ugualmente buono, ma un granino sotto, quello alla salamella e zafferano. Fatto questo abbiamo aperto 6 o 7 bottiglioni di vino, avevamo 6 o 7, forse più, lettre di birra. Ed è stato un bellissimo momento dove tutti quanti ci siamo divertiti, anche perché abbiamo costruito il nostro gioco del drago, personalizzato su di noi, sulle nostre abitudini, su un gioco che piace a noi e sulle nostre debolezze, sui nostri trigger, diciamo. L'abbiamo disegnato noi, l'abbiamo ideato noi, per chi non sapesse cosa fosse il gioco del drago. È una specie di gioco dell'oca, è solo che le tappe prevedono che si facciano delle attività che ti portano a bere. Sì, è un gioco alcolico. Spero che qualcuno di voi ci abbia giocato prima o dopo, nella sua vita, o che ci giocherà. Per esempio, noi abbiamo fatto fare una coppia di nostri amici delle flessioni e sulla schiena del mio amico c'era seduta la sua morosa, perché questo mio amico è abbastanza infissa con la palestra. Ad un altro ancora, a un altro ancora molto timido, abbiamo fatto recitare uno scioglilingua a sfondo sessuale. È stato molto divertente. Allo scoccare della mezzanotte ci siamo visti dall'appartamento e un po' di fuochi. Era nostra intenzione uscire a fare due passi a Torino, ma non avevamo così tanta forza. Inoltre, la mattina dopo, alle 11.20, avevamo previsto una visita gratuita, eccezionalmente gratuita, a Palazzo Reale e ai Musei Reali di Torino. Quindi abbiamo deciso di andare avanti con il gioco, di non riuscire quella sera e di godirci la serata tra di noi. Ed è stato un bellissimo momento, ricco di tanti momenti. A un mio amico abbiamo fatto fare Indiana Jones, ad altri miei amici abbiamo fatto fare il karaoke, che ad altri amici ancora abbiamo fatto fare delle finte interrogazioni e quindi ci siamo divertiti a modo nostro. Abbiamo creato noi il nostro divertimento. Verso le due e mezza a tre io e Emma siamo tornati in hotel e nonostante fossimo sulla stessa via dei nostri amici ci volevano comunque 15 minuti di camminata per arrivare all'hotel, quindi devo dire meglio così, che non siamo andati troppo in giro. La mattina dopo ci siamo svegliati, ci siamo presi un caffè in Piazza Castello, dove stavano smontando le paradie, se così vogliamo chiamarle, del concerto della sera prima e dopodiché abbiamo cominciato la visita al Palazzo Reale e ai musei, musei reali della famiglia reale di Torino, di Savoia e ai giardini reali, devo dire i giardini reali sicuramente mi riderebbe una seconda visita in un momento più appropriato, adesso che è inverno, apparivano un po' poco curati e un po' tristi, sicuramente non nel loro massimo momento di splendore. Dentro il Palazzo Reale invece l'ho trovato molto bello, anche questo molto simile alle sale regali che si trovano all'interno dell'Uvra, secondo Emma un po' cupo, però questo aspetto dell'essere cupo viene anche un po' smorzato a un certo punto da una sala da ballo grande, bianca, immensamente luminosa, veramente bella, la tipica sala da ballo che uno si immagina quando cerca di proiettarsi verso le sale da ballo di quei tempi e all'interno sempre dei patelti dei musei reali abbiamo visitato una cappella che però non ricordo adesso, di cui però non ricordo il nome adesso, è estremamente bella, mi è piaciuta tantissimo, di colore nero e poi grigio bianco, andando verso la cupola, la verticalità che mi ha donato questa cappella mi è piaciuta tantissimo, anche la struttura della cappella sembrava quasi che andando verso la cupola ma l'universo implotesse proprio per la struttura arsico-golata che la cupola possiede. Finito questo passaggio ai musei reali ci si è messi alla ricerca di un posto dove mangiare e in realtà l'abbiamo trovato in una costeria di cucina tipica biemontese, piuttosto cara, abbiamo mangiato abbastanza discretamente bene, dai diciamo così, parte di noi invece non si è trovata troppo bene. Per esempio Emma ha mangiato della polenta con il gerbo ma all'interno del gerbo c'era troppo cinebro, a seconda dei suoi gusti e quindi ogni morso della carne di cervo non riusciva a costarselo proprio per questo motivo perché c'era troppo cinebro e quindi esplodeva con un sapore troppo forte in bocca. Archiviato il momento del pranzo, devo dire, nessuno di noi voleva proseguire con la visita di altre mete culturali o artistiche. No, perché non avessimo voglia ma semplicemente eravamo troppo stanchi, la serata ci aveva messo tutta una prova. Il tempo non era dei migliori perché era molto grigio, nebbia, piaccerellina e inoltre io, a differenza degli altri, avevo due ore e mezza o tre di macchina da affrontare perché io sono andato in macchina a Torino mentre gli altri miei amici, una decina di loro, in treno con Italo e sinceramente è stato un capodanno bello. Avrei potuto aggiungere qualcosina sicuramente, sicuramente. Non so quanta volte ho detto sicuramente in questo video, perdonatemi. Però anche faticoso, sapete perché? Perché il 31 io ho cominciato a lavorare alle 6 del mattino, quindi mi sono svegliato alle 5 e mezza e ho lavorato fino alle 10 circa del mattino, in maniera un po' eccezionale. Di solito il sabato non lavoro. Dopodiché mi sono messo alla guida e ho fatto 3 ore di macchina. Una volta arrivato ho fatto 3 ore al museo Egizio, serata di capodanno e la mattina dopo, avendo dormito 4-5 ore forse, altre 2 ore al museo reale, palazzo reale. Quindi potrete ben immaginare che al pomeriggio l'unica cosa di cui avevo voglia e bisogno era un'altra doccia e sfaccarmi a letto. Infatti siamo tornati a casa ieri sera e avete il video di un pezzo di ritorno a casa qui su YouTube stanchissimi, stanchissimi. Quindi ci siamo fatti una pappa al pomodoro a casa molto 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 buona ottima ricetta di riuso e poi siamo crollati definitivamente. Quindi cominciamo questo 2023. Io spero di cominciarlo proseguendo tutti i progetti che ho intrapreso nel 2022 tra cui questo di YouTube e spero che voi possiate darmi manforte mettendo un like a questo video iscrivendovi, invitando le persone ad iscriversi dandomi i vostri consigli qui sotto nei commenti e raccontandomi come voi avete vissuto il vostro capodanno o come lo vivete generalmente. Io ho pronti dei nuovi video che c'entrano anche con un mio regalo di Natale e quindi vi aspetto in un prossimo video e vi mando un bacio enorme e vi auguro ogni bene anche per questo 2023 che possiate vivere il più possibile nel momento presente ve lo dice uno che fa fatica a vivere nel momento presente perché io vado sempre con la testa nel passato oggi e il futuro nel passato e il futuro e invece stiamo qui ed ora godiamoci quello che abbiamo iscrivetevi al canale un saluto